come leggiamo? ah però prigione ok siamo arrivati alla prigione siamo arrivati anche alla zona dove ci sono le mine devi stare molto attenti ma se io faccio così tipo aspetta no non scoppiano anche perchè là c'è una granata che mi sarebbe molto molto utile aiuto con calma dobbiamo adesso iniziare a passare mangiamo pure questo va là adesso sperando che ci volino addosso i zombie venga va va vanguul dai zombino vieni ma mia che tecnica mamma mia via ah ma quindi posso fare una roba del genere attenzione attenzione che l'ho fatta vai vai com'è ma ma sono arrivato fin cioè ho fatto tutto sto casino e posso manco prenderla perchè sta ma va dalla coglione non ce n'erano mica due perché ovviamente se salti che c'è la cosa che c'è un'ostruzionamento in me no che c'è un'ostruzionamento in mezzo di santo mamma mia scoppia anche in aria ecco dove cacchio devo andare ah c'è una porta e lo sapevo lo sapevo pastila di allah lo sapevo io che quando ci sono i caccio di oh quando ci sono i cacchio di di lezzi saltano fuori sti schifosi ah vero l'ho ammazzato lo stesso sti cacchio ah dolore belli i proiettili dallo shotgun butta dentro no ah v'ammazzo così eh si si ah è questo ma va fa un bagno quanto siamo anche in zona vabbè quello là non posso aprirlo perché non so sta cazzo da è porta mi voglio fan tornare indietro ricarica però sta pistola ditto nei bagni via via proprio ditto nei bagni quindi dobbiamo andare avanti dove siete brutti schifo mamma mia andrà scioppata grande manovra questa così dire grande quasi quanto la manovra di Heimlich no mamma mia toti sta bene anche se ho scuttanato un po' di colpi se devo essere sincero perché non si alza via ma guarda quanto si alza guarda 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 fuga medic kit qua dietro dopo un po' si rompe buona sapersi che cacchio e che stavano guardando ok si parla di gioielli credo spero certificato di autisticità in questo shopping canale gratis dove si possono prendere delicatissime esatto anche se diciamo come dire c'è anche un canale di venti di gioielli ma come si dice la musica di sottofondo è abbastanza ecco abbastanza ambigua sembra più che altro qualcos'altro diciamo ho bisogno di comprare quella roba allora qua mo mi devo ah ok no va bene era la barriera mo io devo capindo cacchio devo andare ok c'è un salvataggio perfetto no no bullseye eh lo sapevo sti proci arco can ricarica 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 sei schivosi ma porca mio fatemi mangiare qua mettiamo dentro le le basta eh e me l'ha tirato pure il mozzicone mondo cacchio devo andare qua sì che devo andare qua c'è stato manco ce l'avevo fatto caso ok stiamo qua mangiando che è sto coso per terra sembra qualcosa quando si può attivare apriamo con una chiave che sinceramente non mi ricordo anaconda cricket cricket ricevo l'hai trovata nella prisione cricket sì l'ho trovata quindi vuol dire che ti stai avvicinando quindi tu sei nella prisione sì ma non è quello che credi ah sì forse adesso mi ricordo che tu mi hai detto dai devi riuscire a tirarmi fuori dalla cella e che differenza fa che cosa vuol dire ma stai scherzando tu mi hai detto devi uccidere i soldati mi hai reso il tuo complice forse per quei poveri bastardi indifesi che c'erano al garage dopo lo schianto delle cose con gli esperimenti adesso mi sa tanto che me ne starò qui bello tranquillo per colpa tua i dreadnought sono stati quelli che mi hanno buttato in prisione capisci sono dei assassini psicotici mi devi credere come io perché io dovei credere a tutto quello che ti sei inventata alla fine i dreadnought si sono rivelati soltanto dei nomadi ragazzi e tu sei quella isterica manipolatrice puttana vuoi conoscere per caso una psicopatica ancora migliore dai avanti non 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 però non metterti a piangere dopo quando io te l'avevo detto hai capito quando io ti ho detto del pericolo magari tu vuoi farmi soltanto pensare a questo forse è quello che stai facendo tentando di manipolarmi cosa credi che sia facile io da manipolare guardati intorno non abbiamo bisogno dei veri geni qui tu e i dreadnought potete andarvi a farvi fottere per quello che mi importa continuiamo questa queste queste parole e crediamoci allora perché avverti perché ti hanno ti dovrebbero aver chiuso qua dentro sotto nella nella zona sotto al garage tu dovevi fatto qualcosa di davvero cattivo o magari anaconda tu sei andato in prigione Gesù Cristo non è che ti sei messo a mangiare persona qualcosa vaffanculo buccia non chiamarmi più tu stronzo mai più passo e chiudo ah quindi non era pianificato tu sei proprio isterica ma che cacchio ma devo andare di qua se vado up vado up qua non posso vedere niente qua non c'è niente apriamo aiuto l'ho ucciso suo amico l'ho visto io l'ho ucciso suo amico io non ho fatto niente però sti qua porca miseria attacca così proprio ha qualcosa da mangiare i bullet fanno sempre comodo andiamo qua l'M16 apriamo aiuto ce n'è uno qui ma qua posso rompere aiuto certo che è proprio eh alla grande eh eh fanculo 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 te aiuto tifoso lanciatore di bombe io dicevo un dogacchio lancio le bombe che qua ci sono i cosi ma non si capisce bene la granata ma sono pieno uh è open open se non so i codici che cazzo open allora qua andiamo a shot the gun apriamo spera aia si schifosi se no morissero io spaccassi tutto eh scusate ok io ho lanciato la ok perfetto abbiamo aperto la porta sperando che sia quella porta la ah per fortuna che c'era qualcosa da bere mangiare qualcosa del genere esattamente aia questo cazzo they need backup puttana di una granata mi correva anche dietro aia ma poi come cacchio fai a prendermi quel cacchio di cucina pompa dalla lontananza porco cane apri sto cazzo devorto ma aprilo che mo spacco tutto da mangiare ma spacchiamo un grande oh non so se avete visto il grande numero che ho sparato cioè che ho tirato lasciata la scatola e la scatola magicamente è andata su proprio su cosa che dovevo faccio fare a un culo cacchio scoppio aio che ho schifosi lanzatori di granate a uffo ok mi curo proprio l'instant e instant ricarichiamolo di incaricabile ok mi ha aperto la porta sotto spacchiamo un po' di cose qua aiuto schifosi che cazzo e vabbè però quello lì fa fucile a pompa fucile di pistola guarda che mi uccidiamo ammazza oh sti schifosi vediamo la granata ma che cazzo del fucile a pompa tanno lo voglio avere anch'io quel fucile a pompa lì orco can insomma minimo ci c'erà fuori qualcuno vero eccelo bastardi schifosi brutti bastardi ve lo dooo che tecnica la tecnica dell'assassinamento fantasma grazie a tutti a tutti e